In questa edizione del LED News, bancarotta fraudolenta, la Guardia di Finanza esegue decreto di sequestro per 3,4 milioni di euro nei confronti di Santo Campione, amministratore della Sigenco. Nasce un nuovo gruppo parlamentare all'Assemblea regionale siciliana, si chiama Sicilia Democratica e viene fondata da Lino Leanza. I lavoratori del Teatro Massimo Bellini stamani hanno consegnato al prefetto una lettera perché si attivi in prima persona per la loro vertenza. L'esame del regolamento dei Deors è stato rinviato dal Consiglio Comunale di Catania. L'assessore Angela Mazzola aveva auspicato un rinvio di qualche giorno per l'esame dell'atto e ieri in aula è mancato il numero legale per cui la seduta dovrà essere riconvocata. In Piazza Cutelli piantati 12 alberi di leccio al posto delle palme. Le tue idee, i nostri obiettivi. La Sicilia muore, ma si può ancora salvare. È indispensabile imboccare subito la strada della crescita. Perché accada, la classe dirigente siciliana deve intervenire sulle istituzioni affinché diventino efficienti. Perciò serve l'informazione investigativa, propositiva ed efficace. Scoprila su QDS.it Campagna Etica 2014 Abbonati al quotidiano di Sicilia. Il tuo contributo è un prezioso sostegno al grande progetto di risorgimento Sicilia per lo sviluppo e l'occupazione. Mamma e papà, due parole semplici e piene d'amore, perché è dall'amore che arrivi tu. Sei il dono visibile, ci regali felicità, sei il presente e il futuro. Mondo Ragazzi pensa a tutte le future mamme e le premia regalando 100 euro in buoni acquisto. Abbigliamento e calzature per bambini con i marchi più prestigiosi. Corsi preparto gratuiti, parcheggio riservato, angolo fasciatoio e stanza dei giochi. Mondo Ragazzi si trova a Catania, in via Pola 19. Mondo Ragazzi, amici d'infanzia. Questa mattina i finanzieri del Comando Provinciale di Catania, coordinati dal Gruppo per i Reati contro la Criminalità Economica della Locale Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione al provvedimento di sequestro preventivo disposto dalla GIP del Tribunale Teneo nei confronti di Santo Campione, amministratore dell'Asigenco S.P.A., per aver sottratto al patrimonio della società risorse economiche quantificate allo Stato in 3,4 milioni di euro. La società, già operante nella realizzazione di grandi opere infrastrutturali, è stata inizialmente dichiarata fallita dal Tribunale di Catania il 21 novembre del 2013, con posizioni debitorie di circa 100 milioni di euro, e poi riammessa alla procedura di concordato preventivo con sentenza della Corte d'Appello di Catania. Le indagini sulla situazione finanziaria dell'Asigenco S.P.A. hanno evidenziato indizi di reato in ordine e reati di bancarotta fraudolenta, truffa e falso nei confronti dell'amministratore Santo Campione, nonché del figlio Pietro. Sono stati rilevati ingenti trasferimenti di capitali dall'Asigenco a Santo Campione e al figlio Pietro, sia direttamente che attraverso l'Asigenco Service S.R.L., recentemente fallita, appartenente al medesimo gruppo e operante nella fornitura di calcestruzzo. In particolare, le operazioni finanziarie attraverso cui sono stati fatti fuoriuscire i soldi dalla società si sono sviluppate in due modi. Il primo, in trasferimenti dall'Asigenco S.P.A. all'Asigenco Service, e da questa alla famiglia Campione. Nei mesi dei novembre-dicembre 2012 sono stati infatti emessi diversi assegni e effettuati i bonifici dai conti correnti dell'Asigenco in favore dell'Asigenco Service S.R.L. per complessivi 2,7 milioni di euro a fronte di fatture per forniture di calcestruzzo. Le movimentazioni finanziarie avvenute in epoca appena successiva alla presentazione dell'istanza di concordato preventivo da parte dell'Asigenco S.P.A. non erano state autorizzate dal Tribunale fallimentare di Catania e pertanto erano state qualificate quali atti in frode dei creditori. Successivamente, nei primi giorni di gennaio 2013, con parte della provvista finanziaria formata dai predetti trasferimenti dai conti correnti dell'Asigenco Service S.R.L., sono stati effettuati due bonifici con la causale a conto acquisto azioni per un totale di un milione di euro sul rapporto bancario intestato a Santo Campione e poi transitati nello stesso mese su un conto corrente intestato al figlio Pietro. Nel secondo schema, invece, trasferimenti da Asigenco S.P.A. a Santo Campione e da questi a Pietro Campione. Parallelamente, infatti, è stato accertato che a novembre 2012, solo pochi giorni prima della presentazione della proposta di concordato, sono confluiti su un altro conto corrente bancario intestato a Santo Campione tre bonifici disposti dall'Asigenco S.P.A. per un totale di 700 mila euro. La provvista così costituita è stata integralmente trasferita tramite bonifico su un conto corrente accesso dal figlio Pietro, con la causale prestito a titolo grazioso. L'esecuzione del provvedimento di sequestro preventivo ha consentito di accertare che le somme di denaro sono state in buona parte utilizzate per spese sia personali che relative ad altre società riconducibili alla famiglia Campione. Sono invece rimasti nella disponibilità della famiglia Campione e pertanto sottoposti a sequestro 400 mila euro in polize assicurative intestate a Pietro Campione e 600 mila euro giacenti su due rapporti bancari intestati alla moglie di Santo Campione. Nasce un nuovo gruppo parlamentare all'Assemblea regionale siciliana, si chiama Sicilia Democratica e viene fondato da Lino Leanza insieme ai cinque deputati che hanno deciso di seguirlo nel suo addio ad articolo 4. Sicilia Democratica avrà come capogruppo l'onorevole Totò Lentini e come vice capogruppo l'onorevole Luisa Lantieri. Ne fanno parte anche lo stesso Lino Leanza, Gian Battista Coltraro, Carmelo Currenti e Salvatore Cascio. Il partito vero, tutto quello che è strutturato nel territorio certamente sarà presente a questa costituente, fermo restando che è giusto che venga chi ritiene di continuare un percorso. Non si tratta solo di un gruppo ma di un vero e proprio partito che avrà un'organizzazione tradizionale di celeanza e intendo riferirmi ad un modo di concepire la politica e l'organizzazione di partito. Sicilia Democratica terrà la sua costituente il 29 e 30 novembre. In quell'occasione saranno varati lo statuto, il manifesto, il simbolo, il codice etico che tutti gli aderenti dovranno sottoscrivere, il piano programmatico e quello organizzativo. È una continuazione di un progetto che avevamo avviato già circa due anni fa e che io ho avviato circa tre anni fa e quindi una naturale evoluzione. In quella naturale evoluzione ovviamente faremo, tireremo le somme e avvieremo un nuovo percorso. Le linee guida della nostra azione non cambiano. Al centro dell'attività politica di Sicilia Democratica ci sarà sempre la lotta all'esclusione sociale, lo sviluppo, la legalità, interventi per il potenziamento delle piccole e medie imprese, la promozione della cultura, dell'istruzione e della formazione nella convinzione che di cultura e turismo si mangia soprattutto in Sicilia. Su tutto naturalmente il lavoro, vera emergenza sociale da affrontare. Da un punto di vista politico, la collocazione di Sicilia Democratica non cambia rispetto alla precedente. Restiamo nel centro-sinistra, fedele ai partiti presi con il presidente della regione e la maggioranza. Siamo una forza di questa maggioranza ed esprimiamo l'assessore all'agricoltura Nino Caleca, così come il suo predecessore Ezequia Paolo Reale. Dunque nulla cambia nella maggioranza rispetto a ieri. Presentata all'Assemblea regionale siciliana, un'interrogazione parlamentare, primo firmatario Matteo Mangiacavallo del Movimento 5 Stelle, rivolta al presidente della regione siciliana Rosario Crocetta e all'assessorato al turismo per fare chiarezza sulle spese folli, sostenute dallo stesso assessorato per la partecipazione al Brand Italy Exhibition of Excellence a Doha in Qatar. Le spese sostenute dalla regione siciliana infatti pare ammontino a più di 700.000 euro, dicono i pentestellati. Precisiamo, aggiunge Mangiacavallo, che non è dato conoscere nemmeno il numero dei componenti della delegazione istituzionale, che sta partecipando alla due giorni, sempre a spese dell'assessorato. Chiediamo quali siano, ovvero saranno per la regione siciliana i riscontri di utilità, conclude il deputato 5 Stelle, di sapere quale sia il numero del personale della regione siciliana coinvolto nell'organizzazione che ha partecipato alla trasferta in Qatar. Il PM Angelo Brugaletta ha chiesto la condanna a 14 anni di carcere per omicidio volontario del vigilante Segraziano Longo Minnolo, di 35 anni, accusato di aver ferito mortalmente con un colpo di pistola, Giuseppe Giuffrida, 22 anni, il 3 ottobre del 2012, ai mercati agroalimentari Sicilia, Mass di Catania, al culmine di una lite. La prossima udienza si terrà il 17 dicembre con gli interventi delle parti civili, gli avvocati Giuseppe Lipera, Grazia Coco, Claudia Branciforti e Salvatore Cavallaro, che rappresentano i familiari della vittima. Seguirà la ringa della difesa con gli interventi degli avvocati Fabrizio Siracusano e Salvatore Trombetta. Gentilissimo signor prefetto, oramai da diversi mesi si protrae ancora e risolta la vicenda dei 26 lavoratori stagionali del Teatro Massimo Bellini di Catania, impiegati nella gestione tecnico-organizzativa indispensabile al funzionamento del teatro. Inizia così la lettera che questa mattina i lavoratori del teatro insieme al sindacalista Snals e Confstall Antonio Santonocito hanno consegnato al prefetto della città di Catania affinché si attivi in prima persona per l'avvertenza. Nelle settimane scorse i lavoratori stagionali senza lavoro e senza stipendio, sconfortati e abiliti, hanno più volte protestato portando all'attenzione della cittadinanza la loro condizione, sospendendo più volte la protesta a seguito di promesse ancora oggi non mantenute. In diversi incontri con il CDA e il sovrintendente è stata più volte annunciata e fatta richiesta alla regione siciliana la deroga al divieto di assunzione prevista dalla legge regionale. In un incontro tenutosi nelle settimane scorse tra il CDA e alcuni funzionari regionali, presenti anche il presidente Rosario Crocetta, si è convenuto di presentare all'ARS una norma che dia la possibilità di assumere il personale necessario per il funzionamento del teatro. Oggi la struttura è sprovvista di personale di vigilanza antincendio e del personale di vigilanza alla portineria, nonché di tutte le maestranze necessarie per la realizzazione delle varie opere. Nonostante siano trascorsi diverse settimane ancora nulla si sa sui tempi e sul risultato e sull'esito finale. Dalle notizie che abbiamo, anche dal CDA hanno fatto tutti i passaggi necessari, c'è anche l'impegno personale del presidente della regione di far passare questa norma che è vero con la legge regionale, così come è stato fatto per le terme. Però sono trascorse ormai tre o quattro settimane e non abbiamo notizie di questa norma. Noi chiederemo oggi alla prefettura di Catania, al prefetto, di farsi portavoce interpretare il disagio e la disperazione di questi lavoratori. Vi ricordo che qualche settimana fa uno di questi ha tentato di tarsi fuoco per la disperazione, ma è stato, grazie a Dio, prontamente soccorso dai colleghi, dai carabinieri, dal 118. Però voglio dire, siccome si tratta di diritti acquisiti e non riconosciuti, la gente si aspetta giustamente che si dia corso, peraltro, agli impegni assunti personalmente dal presidente della regione. Quindi chiederemo al presidente di farsi portavoce e anche al CDA di continuare questa pressione perché diventa incestibile ormai da un anno che si va dietro questo, la protesta ormai si protesta da circa due mesi, però non abbiamo riscontri immediati e positivi al momento. Adesso c'è al Teatro Massimo di Catania, c'è in corso il balletto di calendario e ci sono attualmente i calderisti fuori, questi poveraci, tutto il balletto complesso, si devono fare la sera alla doccia fredda per non poter entrare per causa di questa norma i nostri addetti al lavoro. Per esempio la prevenzione incendi è fuori, il teatro è spornito dai pompieri completamente. Io dico una cosa, cerchiamo di risolvere i piccoli problemi che attualmente si attanaiono alla città di Catania. Sono problemi burocratici che si possono risolvere in un giorno. Prego al Presidente della Regione che faccia veramente questa benedetta seduta e incominciamo a lavorare una volta per tutti. Se nelle prossime ore non si sbloccano le procedure necessarie per pagare tutte le spettanze arretrate ai lavoratori forestali, saremo costretti ad attivare iniziative anche legali per tutelare i lavoratori del settore, procedendo con denunce dettagliate. Lo scrivono i segretari generali di Fai Cisle, Flai CGL e Willa Willa di Catania, Pietro Di Paola, Alfio Mannino e Antonio Marino, in una lettera indirizzata al Presidente della Regione, Crocetta, all'assessore regionale all'agricoltura e ai direttori dell'azienda forestale di Catania e Palermo, ai direttori IRF di Catania e Palermo. I sindacati definiscono il mancato pagamento degli stipendi forestali una vergogna. La politica e la burocrazia regionale dimostrano tutta la loro inconcludenza e incapacità nel gestire l'ordinaria azione amministrativa di questo settore, producendo un forte malessere tra i lavoratori, si legge ancora nella lettera. Anche in precedenza la situazione è stata sempre assai difficile, ma quello che si sta verificando in questo ultimo anno non è più accettabile e non si riesce più a trovare nessuna giustificazione per tali ritardi. Ritardi dovuti in parte non alla mancanza di risorse, ma ad errori burocratici spesso voluti. Per quanto riguarda infatti il pagamento dell'antincendio, solo in queste ore si sta sbloccando il pagamento del mese di agosto, ciò è stato possibile solo grazie ad una nostra azione costante. Abbiamo spesso dovuto sostituirci all'amministrazione forestale, fungendo da passacarte affinché la documentazione necessaria si spostasse da un ufficio all'altro. La situazione dei lavoratori dell'azienda è ancora più confusa e incerta. Ci sono ancora lavoratori che devono percepire il mese di agosto e ci sono perizie di cui non si hanno notizie. L'esame del regolamento dei DEORS è stato rinviato dal Consiglio Comunale di Catania. L'assessore alle attività produttive, Angela Mazzola, aveva auspicato un rinvio di qualche giorno per l'esame dell'atto e ieri sera in aula è mancato il numero legale per cui la seduta dovrà essere riconvocata. Quello sui DEORS, ha detto l'assessore, è un regolamento atteso da molti anni ed è quindi giusto avere la possibilità di svolgere un lavoro supplementare per esaminare con ancora maggiore accuratezza i tantissimi emendamenti, ben 140, proposti dai consiglieri comunali. Potremmo così analizzare le valutazioni del luto, l'ufficio traffico urbano e alcuni pareri legali anche in relazione alle normative nazionali e regionali. I capigruppo Alessandro Porto, Carmelo Nicotra, Daniele Bottino, Giovanni Davola, Carmelo Coppolino si sono detti d'accordo con la scelta di rinviare di qualche giorno l'esame di questo importante atto per Catania affinché hanno sottolineato si possa dar vita a un regolamento innovativo a vantaggio di tutta la città. Sappiamo, ha detto Angela Mazzola, che ci sono molte aspettative con toni a volte anche eccessivi rispetto a questa delibera. Lo spirito del regolamento è di aiutare gli esercenti che vogliono incentivare la loro attività con regole e ordine nella gestione dei DEORS, mantenendo al contempo il decoro della nostra città, in particolare nel nostro centro storico patrimonio dell'UNESCO e tutelando le giuste esigenze dei residenti. Nei prossimi giorni valuteremo anche la possibilità di trovare una sintesi tra tutti i gruppi in consiglio sui tanti emendamenti, visto che alcuni sono in contrasto tra loro e altri possono essere accorpati per dare alla città un regolamento efficace. In Piazza Cutelli questa mattina sono stati piantati 12 alberi di leccio negli spazi che ospitavano le palme eliminate dopo il tragico evento in cui perse la vita una donna, perché infestate dal punteruolo rosso. Si tratta di piante alte oltre due metri e definita a pronto effetto, cioè capaci di dare già un riscontro paesaggistico. I lecci, ha spiegato il dottore Annibale Sicurella, consulente del sindaco per il verde, sono alberi tipici della macchia e del giardino mediterraneo a crescita lenta, che mantengono un portamento compatto e soprattutto hanno bisogno di pochissima manutenzione. Inoltre, ha aggiunto Sicurella, questi alberi sono stati impiantati con un sistema molto utilizzato in Gran Bretagna e che consiste nell'impiego al posto del classico tutore a tutta altezza, che finisce per indebolire il fusto delle piante, di un palo di ridotte dimensioni che blocca soltanto il primo terzo del tronco. Gli alberi donati da Farmitalia alla città di Catania sono stati piantati dai giardinieri della Multiservizi, i quali hanno lavorato di concerto con gli operai dell'ufficio manutenzioni, che coordinati dall'ingegnere Filippo Riolo e dal geometra Rosario Marino per gli interventi speciali, hanno provveduto al ripristino dei cordoli che circondano gli alberi. Grazie a tutti! Grazie a tutti!